Pimpio, Cavano, Esposito Rosino, Monaco, Giotto di Sattatù, Carluccio, Mileto, Oscar, Cuccio, Marigliano, Paezza, Assamo, Sottio, Milete, Ranamalo, Cervone, 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 Inventino, Inventino, Aluccio, Cervone, Azzelte, Petrone, Andano, Cervone, Presidente Buon giorno Presidente Giorgio Arsino Presidente Arsino Presidente Contratti consiglieri Buon 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 che nasce in testa una manichetta di 8 processi tribunali, la, diciamo, scientificità di argomento o spiega comunque l'unico rispetto che questo dipende. Poi, direi che non abbiamo tutti gli argomenti all'unico, chiedo di intervenire, chiedo di intervenire, sempre potrà anche in anticipo il modo da poter programmare gli interventi. Consigliere di un ufficio, al di là di preoccupare che si temi intervenire con un consiglio, mi invito e c'è il dipende dove ti può scendere un'azienda di interventi. Consigliere di un ufficio. Grazie. 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 e l'indicente del mio Presidente, e non taglio un'ante, ma anche il Presidente. No, però, sì, non c'è tanto. In caso comunitario non sono costretto a chi della comunità. Consigliere le cose.